Dopo un anno tragico in cui il mondo ha dovuto fare i conti con la pandemia di Covid-19, la Toscana può ripartire solo aumentando gli investimenti. A dimostrarlo sono i dati impietosi contenuti nel nuovo rapporto IRPET. Nel 2020 il prodotto interno lordo della Toscana è crollato di 12 punti, 14 miliardi di euro in meno. Sono andati perduti 23.000 posti di lavoro e altri 94.000 sono al momento congelati. Aggiungendo anche i lavoratori autonomi si arriva a 158.000 persone. Per il 2021 la carta da giocare sono quindi gli investimenti utilizzando anche i fondi del Recovery Plan. Attraverso proprio il contributo dello Stato e dell'Unione Europea con il Recovery Plan si possa intanto immettere nel mercato una grande massa di risorse per gli investimenti pubblici che consentano di ammodernare il Paese e di riprendere velocemente gli scambi soprattutto con l'estero rinnovando anche il sistema produttivo. E anche per quanto ci riguarda misurare provvedimenti che possano aiutare le imprese a ritrovare lo spazio per nuovi investimenti e a sostenere in termini di formazione, di ricollocazione e di sostegno ai lavoratori perché la fase critica di transizione non sia e non si traduca in una fase tragica dal punto di vista sociale. I settori più colpiti dalla crisi Covid sono stati la moda, il turismo, la ristorazione, le imprese ricettive. La recessione ha colpito soprattutto giovani, donne e immigrati. Per il 2021 l'IRPET stima una ripresa di almeno il 3% del PIL, inferiore a quello del resto d'Italia, per l'eccessiva dipendenza dall'export.